Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio! Oggi ci addentreremo nei meandri del pensiero. Andremo ad esplorare uno dei quesiti che costituiscono un mistero da sempre, un argomento che è stato tema e centro di dibattito per un'intera storia. Qual è il senso della vita? O quali sono i sensi della vita? Ce n'è uno? Ce ne sono tanti? È uno comune per tutta l'umanità? Ma addirittura c'è chi dice che la vita non ha senso e tutto è frutto del caso, una natura randomica che governa la nostra esistenza. Ecco che allora oggi voglio proporti questa riflessione, ovviamente in chiave di crescita ed evoluzione personale, affinché possa esserci utile nel nostro cammino. Ti dicevo che la ricerca del senso della vita è uno di quei temi come la felicità, come la libertà, che è stato al centro nella storia del dibattito tra i filosofi, per esempio. Molti filosofi vanno alla ricerca proprio dello scopo della vita, nella costruzione del loro pensiero. Oppure anche al centro delle religioni, scritture, profeti, che suggeriscono degli indirizzi affinché la nostra vita assuma un senso, come ad esempio il bene comune, l'aiuto del prossimo e così via. Quello che so è che oggi nella società moderna c'è una sensazione di confusione, di disorientamento proprio nella ricerca di questo senso per la propria esistenza, nel voler dare significato alle proprie azioni. E quindi che cosa si fa in mancanza di senso? Beh, si lascia che entità esterne ci inducano con un senso artificiale. Che cosa vuol dire tutto questo? Semplicemente che ci si affida a quello che è il sistema, una struttura esterna che è fatta dallo Stato, dal mercato, e che ci suggeriscono tutti quegli strumenti e quegli indirizzi tali da garantire la nostra realizzazione personale. Ecco, va da sé che nel momento in cui consideriamo tutto alla luce di un prodotto, per esempio, oppure alla luce dell'andamento della società che va per la maggiore e quindi che si basa sulla ricchezza, che si basa sulla fama, sull'essere lodato o notato, riconosciuto dalle altre persone, si viene a creare uno squilibrio nella nostra esistenza. Tutti quei bisogni indotti, come ti dicevo prima, non sono dei bisogni autentici, sinceri, dei bisogni radicati alla nostra struttura interna, come esseri umani proprio. Cosa vuol dire che è il mercato, che lo Stato sono il male? Questo no, ma nel momento in cui li si prende in considerazione in maniera assolutistica, allora dobbiamo farci qualche domanda. Cosa stiamo dicendo? Nel concreto potremmo prendere l'esempio di un prodotto che tutti noi abbiamo e che cerchiamo sempre di alzare di livello, andando ai top di gamma, che è quello dello smartphone. Lo smartphone oggi non è semplicemente un simbolo di classe, potremmo dire. Chi si può permettere lo smartphone all'avanguardia, allora è un tipo ok oppure non ok, ma è addirittura un prolungamento della nostra esistenza, del nostro corpo. Potremmo dire un prolungamento del nostro braccio, ma non solo. Anche dei nostri occhi, perché ci permette di filtrare, come degli occhiali, la nostra visione della realtà. Anche della nostra mente, perché ci permette di fare arrivare a noi delle notizie. Poi poco importa se siano vere, se siano false, se siano state prodotte attraverso un particolare punto di vista giudicante, critico, eccetera, eccetera. Eppure accettiamo quello che ci arriva nello smartphone. Prova ne sia il fatto che, se vai ad un concerto, Pochissime persone non guardano quel concerto attraverso gli occhi della telecamera dello smartphone. È come se ci si stesse abituando a filtrare la realtà affinché non ne siamo totalmente coinvolti in maniera diretta. Tutte le emozioni che arrivano, le sensazioni, gli stimoli visivi anche che arrivano, attraversano lo smartphone che ci fa da barriera come un filtro e ci fa arrivare le cose in maniera indiretta, smorzata, potremmo dire. Va da sé che una società che si basa su questi bisogni indotti, bisogni artificiosi, potremmo dire, è una società che calpesta gli altri. Cioè è una società in cui l'individuo pensa in modo primario a se stesso e tralascia gli altri. Chi se ne frega se gli altri vengono calpestati? Ma altro non inteso soltanto come persona al di fuori di sé, ma proprio anche come il mondo. Se il fine è arricchirsi, se il fine è la notorietà, allora pazienza. Possiamo distruggere il mondo che sta al di fuori di noi. Questa tendenza ad avere comporta un non esserci. Cioè una presenza fisica, una presenza con gli altri, che però non comporta una presenza di spirito, di animo, una presenza piena, potremmo dire. È come un esserci non per se stessi, ma per gli altri. E per gli altri non inteso come altruismo, come potrebbe essere auspicabile, ma proprio un per gli altri faccio le cose perché mi sono state dette. Allora un primo quesito potrebbe essere Per chi fai ciò che fai? O perché fai ciò che fai? Notiamo questa tendenza ad avere anche proprio nella ricerca di senso, che non è una ricerca che avviene in modo radicato alla propria struttura interiore, ma avviene all'esterno, al di fuori di sé. Prova a pensarci. Nel momento in cui vuoi realizzare qualcosa, è molto probabile che cadi nella trappola del pensare prima a ciò che hai, oppure a ciò che non hai, anche inteso come capacità, come strumenti per portare avanti un progetto, per raggiungere un sogno, per realizzare un tuo desiderio. Ecco che la tendenza ad avere, questa base della società di oggi, prende il sopravvento. Quando il percorso invece dovrebbe essere proprio il contrario, non partire da ciò che hai, ma partire dal senso e poi declinarlo all'interno della tua esistenza. E ciò comporta una grande cosa, la conoscenza di te stesso. Questo è un altro di quei temi, al centro di dibattiti, al centro della storia, ma altrettanto importante. Non puoi non conoscerti se vuoi trovare un senso alla tua vita. Non puoi non conoscerti se vuoi dare direzione alla tua vita. E ad esempio, Buddha, una cosa che diceva, è che lo scopo della vita è quello di trovare un senso alla propria vita. E ciò presuppone una profonda conoscenza di sé. E allora, come trovare il vero senso della vita? Beh, il primo passo l'abbiamo detto, conoscersi. Ma non è una conoscenza razionale, non è una conoscenza cognitiva, ma è proprio fare esperienza di sé, con i propri sensi, con le proprie emozioni, prenderne consapevolezza, muoversi all'interno dei propri contesti, all'interno del proprio mondo, ma non filtrando la realtà, ma vivendoli in prima persona. E poi, una volta che sperimenti chi sei, una volta che vivi te stesso, puoi trovare dentro di te quel senso, che in maniera rudimentale potremmo dire che è la tua vocazione. E attenzione, come ti dicevo prima, la tentazione di cadere nell'avere la risorsa, nel pensare agli strumenti che si posseggono, è tanta, ma noi dobbiamo pensare a qualcosa, come ti dicevo, di rudimentale, una materia grezza, che è la vocazione intesa nella maniera più ampia, più astratta possibile, se vuoi. E poi, una volta trovata questa, declinarlo. Declinarla in un'attività concreta, in un'azione, in un progetto, perché no, che possa coinvolgere, una volta che è chiara la tua identità, e che è chiara quello che vuoi fare, la tua direzione, coinvolgere anche altre persone. Al fine di reperire ed essere complementari proprio con le risorse nostre, con le risorse degli altri, con gli strumenti, le capacità, le abilità, eccetera, eccetera. Il fine ultimo, quindi, è la realizzazione. Ha una realizzazione fino a se stessa? No. È una realizzazione nella relazione. Perché noi non siamo, se non stiamo di fronte a qualcuno. Questo è un pensiero che diceva Martin Buber, ed è vero, perché io so chi sono nel momento in cui, di fronte a un'altra persona, so chi è l'altro. E allora posso dire che io sono ciò che tu non sei. Lo so, sembra un discorso un po' complicato, un po' arrovellato, però se inizi a vivere la conoscenza di te, inizi a vivere il mondo che ti circonda, ma con presenza, questi discorsi non rimangono campati in aria, ma diventano carne, cioè diventano incarnati in te, e qualcosa che puoi vivere, di cui puoi fare esperienza. Allora, la relazione. Perché la relazione? Perché nel momento in cui il bene proprio diventa un bene reciproco, e quindi si dona e si riceve, e allora la ricchezza diventa comune. Il proprio progetto, la propria vocazione, il proprio senso nella vita, nella costruzione delle relazioni, e attraverso queste poi realizzarsi in maniera non egoistica e non egocentrica, ma in maniera altruistica, potremmo dire, cioè pensando al bene comune, fa sì che ci si arricchisca. Se mi arricchisco io, puoi arricchirti tu, non soltanto in maniera materiale, ma in maniera anche emotiva, spirituale, di esperienza. E questa, l'idea di successo, che anch'io, proprio parlando di armonia, sto portando avanti con questo progetto di divulgazione. Non per niente si intitola vivere in armonia. Successo che non deriva soltanto dalla propria realizzazione professionale, ma che comprenda l'area spirituale, l'area affettiva, l'area delle relazioni a tutto tondo. Allora, veniamo a noi. Qual è il tuo senso della vita? È qualcosa che, attraverso un risveglio interiore, un risveglio della tua presenza, hai scoperto? Oppure sei ancora alla ricerca? È qualcosa che ti è chiaro? Oppure ci sono già degli stimoli che riescono a farti sentire quella spinta interiore? Fammelo sapere attraverso un messaggio Whatsapp al 329-3211-971. E se vuoi ricevere dei consigli extra, una riflessione extra ogni giorno, attraverso il tuo smartphone, in maniera del tutto individuale, e poi, per rimanere aggiornato anche su questi contenuti che pubblico, mandami un messaggio con su scritta la parola consiglio allo stesso numero, oppure visita il sito sebastianodato.it slash consiglio. Un abbraccio, alla prossima!